Cosa vuoi fare? So fare tutto. Mi reputo un tutto fare e cosa non so fare, diciamo, imparo presto a farlo. Non so cucinare, non voglio imparare. Poi, insomma, in ogni campo mi arrangio. Per esempio, mi piace aggiustare, insomma, una cosa, un computer, un televisore, qualsiasi cosa sia rotto. Uno smanettone è la parola giusta. Mi rende felice parlare. Parlo molto, certe volte assai, perché è una specie di vizio che ho da quando ero bambino e parlo di tutto. Quando una cosa mi passa per la testa la dico e non tengo niente dentro. Mi rende felice il calcio, che secondo me è una forma per esprimere anche dei sentimenti e molte volte viene sottovalutata. Ci sono delle cose per cui sono portato e delle cose per cui meno. Sono portato magari per le lingue o per l'informatica. Non sono portato per la matematica, quindi qualsiasi cosa che comprenda un ramo di matematica lo escludiamo. e mi piacerebbe magari qualcosa in campo linguistico, perché è una cosa che mi esce naturale da fare. Ho imparato tante cose, tante non le ho imparate. La cosa più importante è che ho imparato ad imparare. Questa è una filosofia che uno deve saper imparare. Capornati da un'amplificazione. Molto freddi. Questa è una sfesta,